Serena Autieri vita privata, ecco chi è, suo marito. Enrico Griselli e Serena Autieri formano una bellissima coppia ormai da diversi anni. Dopo essere stati insieme diversi anni, i due hanno deciso di convolare a nozze nel settembre 2010. Griselli è una persona riservata e non ama stare sotto le telecamere, ma ha comunque deciso di farsi intervistare ad oggi e a un altro giorno, parlando della relazione con l'Autieri. Coetaneo della moglie, Enrico Griselli è un manager finanziario ed un produttore teatrale originario di Spoleto. Come lui stesso ha raccontato, nel corso della sua vita ha intrapreso una serie di progetti lavorativi molto importanti nel mondo del teatro, che l'hanno portato anche a viaggiare all'estero. In particolare uno di questi progetti, di grande importanza, si è svolto a Dubai. La frequentazione con Serena Autieri è iniziata quasi per caso e, per un lungo periodo di tempo agli inizi, avveniva soltanto per telefono. I due infatti non si sono incontrati per lungo tempo, non si guardavano di persona e non si toccavano, ma si frequentavano soltanto telefonicamente. Il primo incontro poi è avvenuto sul lago di Como dove è scoccata la scintilla, e dove è iniziata la loro bella storia d'amore che prosegue ancora oggi. Enrico Griselli, il racconto della storia d'amore con la moglie Serena Autieri. Nel corso di un'intervista, Serena Autieri ha confermato che per il primo mese e mezzo non si sono frequentati di persona, ma soltanto telefonicamente. Per lei è stata la scelta giusta perché ritiene che in questo modo non abbiano bruciato le tappe, ma siano andati avanti secondo i loro tempi. Dal momento in cui si sono incontrati, grazie a degli amici in comune che li ritenevano compatibili, non si sono più lasciati. Enrico e Serena hanno raccontato le loro memorabili fughe d'amore, come per esempio i fine settimana nei deserti negli Emirati Arabi, che entrambi ricordano come uno dei periodi più belli del loro fidanzamento. A Dubai è arrivata la svolta nel loro rapporto. Gli entrambi hanno capito l'importanza del loro sentimento, e Griselli ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio. L, 11 settembre del 2010 i due hanno celebrato le nozze a Spoleto, nella città d'origine di Enrico Griselli. Nel 2013 è nata la loro figlia Giulia Tosca, una grande amante della ginnastica artistica. Intanto Enrico continua a fare l'impresario teatrale in Italia, e non è raro che abbia dei progetti in comune con la moglie. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Enrico Griselli e vi piace questa coppia oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!